Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, giovedì tempo inaffidabile sul nord-est e regioni centrali perché al mattino ancora questa perturbazione causerà nuvolosità e qualche fenomeno, quindi attenzione ancora di piovaschi, meglio qui verso sera grazie al miglioramento. Qualche fenomeno atteso anche sul basso Adriatico, dorsale Appennini cambigliora invece sull'angolo nord-occidentale. Andiamo alla prossima grafica perché ci evidenzia ancora cieli chiusi durante la mattinata, prima parte del giorno sulla nostra penisola, centro-sud, nord-est, poi da ovest arriveranno dei rasserenamenti. Attesa quindi una giornata decisamente più tranquilla per Piemonte, Liguria e Lombardia. In sintesi l'ultima grafica perché ci fa vedere più sole al nord-ovest, a Sardegna, via via anche le coste tirreniche, Sicilia, mentre ancora il centro Italia e l'atto Adriatico tra mattinata e primo pomeriggio qualche fenomeno. Le temperature al nord-ovest in aumento, deciso aumento rispetto alla giornata di mercoledì. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo.